Nulla die, si nelinea, nessun giorno senza una linea. Questa frase, attribuita da Plinio al pittore greco Pelle, vissuto nel IV secolo a.C. e del quale si diceva che non lasciasse passare giorno senza tratteggiare col pennello qualche linea, inquadra bene la produzione artistica di Vittore Frattini. Il pittore e scultore, che ha già celebrato il traguardo degli 80 anni, sarà protagonista di una mostra Villa Mirabello, che presenterà anche degli inediti per Varese, città natale di Frattini. È una mostra per me facilitata moltissimo dall'aiuto dei miei figli che hanno fatto un lavoro veramente importante. Ci saranno delle opere inedite per Varese, come il bozzetto definitivo del monumento di Malpensa e le opere fondamentali che sono state presentate sul libro della Nomos lo scorso anno a Villa Panza. Quindi è una mostra non, diciamo, vastissima, ma secondo me molto preziosa, impreziosita poi dal fatto che esporrò tutte le pubblicazioni di grafica che ho realizzato dal 59 a oggi. Questa, ecco, è una cosa che ho fatto nel 74 al Palazzo Sormani di Milano e poi non ho più realizzato. Il teatro di questa preziosa mostra è nel cuore di Frattini. Villa Mirabello mi ha sempre portato fortuna perché, ad esempio, quando stava per sorgere il liceo artistico, una delle prime visite che abbiamo fatto allora era come sede Villa Mirabello. e così, insomma, Villa Mirabello è ritornata diverse volte nella mia attività. Quindi ringrazio, ripeto, il sindaco per questo magnifico invito. Grazie a tutti. Grazie.